allora vediamo se ci capiamo mandato a quel paese o attenzione attenzione qui sta crescendo cioè dipendente al lavoro e ganza dei dipendenti tutti al lavoro prima persona ok come va stessi come ti chiamiamo i stessi scorte stanno consumando le scorte la merce ancora però mi sa non c'è stanno crescendo ok vediamo qui che dice i merci ancora mi sembra non vedere quindi anche se faccio il cielo forse qui va avanti a solo devo capire quella roba qua questo via scusa lavorare no ti batti le palle non si lavora niente fa il cazzo che sulla radio che musica sta ascoltando le sapere che batte anche contento io voglio la musica solo dove c'è non la voglio normalmente ma l'aspetta perché questo uscita audio mantiene il volume della radio adesso vedete radio accesa togliamo dai facciamo finta che è un matto che balla da su allora vediamo che mi dice allora acquista migliore rifornisce forse una volta finito guadagno devo aspettare che finisce acquista scorte se voglio rifornire 15.000 no ma ancora no ruba scorte questo mi piace di più acquista direttamente una volta che saranno state consegnate la botte scorte si impie automaticamente dobbiamo rubare le scorte per vedere che fa ricordate tu guardi qua giù quasi qui ah non 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 ma io conosco chi ci dirà dove prenderlo se abbiamo preso i punti giusti troviamo il mio fratello di Hal e scegliamo 2 secondi dopo questo e avremo la locazione che bisogna andiamo a prenderti o tu? se no andiamo all'aeroporto e ci diamo io sugo la stola che ho ok dobbiamo prendere il mio ricordo se no mi sta lì fino a domani non ho già fame allora quante volte hai mai detto che ho fame? non sono io la cuoca non ho fatto merenda ecco perchè oggi voglio vederla un giorno affamata così mi guarda vedere quanto mangio tutto mangio tutto mangio un pollo intero allora pensa ci fossero un pollo intero intero con salsa barbecue salsa barbecue e insalata patatine fritte cipolline e bacchetta bacchetta calda e croccante si e poi per finire metà pandoro ahahahahah non è scena non lo faremo cioè impossibile questa cosa sta scherzando ragazzi sta scherzando sta scherzando uno scherzo però questi vergogni non volevo pensare che sono l'obesa invece sono male no amore non sono l'obesa ma tene via se no non posso più comprarne altri ma ora una volta se non volo voglio vedere se i nostri amici della mia rivuota hanno aggiunto qualcosa di nuovo diciamo che fa la meridione fa sempre le solite cose sono emozioni contro un posto stagionato il buco non c'è bambarda devi interrogare quello lì c'è qualcuno va interrogato io arrivo atterro da qualche parte intimidisci rapidamente il bersaglio picchiandolo devi picchiare il bersaglio senza ammazzarlo e a mani nude se no l'ammazzi subito c'è un punto di batteraggio intimidazione 20 milioni non sai che senti un... è timorito no, non sparare, non sparare no, non sparo hai fai paura così? urla gli contro urla gli contro dai prova, funziona ma cosa? fidati sta a vedere, come aumenta dai ma che cazzo è questo? è un po' aumentato muoviti dacci il nome, dacci il nome infame muoviti dacci il nome fatti sotto guarda che le prendi eh ah no? no? è la becca di questa dai dai vogliamo il nome ho detto il nome tira fuori il nome se non hai picchiato la pomore non deve morire devi dirmi le cose appunto parla dai a te un destro dai un destro dai un destro ecco lei di Chris che l'ha ammazzata no non l'ha ammazzata è morto nessuno beh è morto solo di un infarto si è morto un infarto posso salire con lei che la sua macchina mi sembra abbastanza veloce ok le scorte sono qui vicinissime dritta verso lei odia andare con la sua macchina no non lo fa è noiosa oddio lei vuole così guardate che gli metti la stradina che lei può seguire con calma senza problemi non può tagliare capito c'è il taglio da fare è ando il doppio del tempo perchè arrivo sempre a rimanere io nei posti di te questo mi raffaio appunto io non la seguo arrivo con la mia macchina è stata spaccata e sbucciata l'accionco come si dice si comunque non è il caso di urlare eh cioè e c'è un altro ti arabi sempre cioè non lo so ma c'è di problema ma sei c'è un altro qui poi rispetto per chi qui qui io c'è un problema non mi devo curare ma non mi devo curare guida bene siamo arrivati rallenta 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 qua non prendi solo i pacchi mi sa non mi dei due furgoni uguali se va al par guarda se si ruba vuol dire che qualcuno verrà attaccato mettiti in un mitra pronto segnale globale segnale globale fra 32 secondi ti vedono tutti loro non ti vedono tra un po' si ho fame mi piace una casa peccato non te la comprerai mai ora siamo visibili a tutti ma tanto siamo arrivati e poi tanto fortunatamente non c'è nessuno ma anche qui ovvero non c'è nessuno ha il problema ma anche qui non c'è nessuno questa è partita al 100 km prima posso guidare? no ma dici per quella? momakamaito momakamaito Feliz Navidad 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 qui c'era ruba le scorte quindi posso anche risparmiare non devo neanche comprarle devo rubandarle poi se li compravo magari era immediato devo capire un po' di cose Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad vi farei vedere il mio albero di Natale mi sta sul computer da quante grande grazie oh qui sono cresciute questo è la canella da ufficio sono cresciute guardiamo che dicono qui Feliz Navidad fame mi piace tutto mio amore affamato allora livello merce di scorte tutto al massimo ora quando si abbassa un po' la proviamo acquistare vediamo scusate rutto interno acquista migliore devo acquistare queste cose qui la prima miglioria di personale cosa fa? questa miglioria aumentare il tuo personale in modo da velocità alla produzione aumentare il valore della merce questo personale di sicurezza installare apprecchiature di sorveglianza in modo da ridurre i blitz della polizia e gli attacchi dei nemici wow se quindi ogni tanto succederà qualcosa qua non fa un cazzo mai eh voi gli atti tu allora